Importante contributo alla campagna di raccolta fondi per il rilancio del teatro della società collegata al secondo lotto di interventi. È infatti arrivata una donazione pari a 50.000 euro depositata sul conto corrente di Fondazione Comunitaria dell'Ecchese dedicato al Fondo per il Rilancio del Teatro Sociale, elargita da un soggetto privato, una nota azienda lecchese di rilievo internazionale. Ringrazio sentitamente il donatore che ha preferito restare anonimo per quello che è il primo generoso contributo per il rilancio culturale della città, afferma il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. La pronta risposta di questa azienda ci fa confidare in un possibile percorso in cui altri soggetti privati potranno partecipare alla rinascita del nostro teatro. Con questa donazione il totale della raccolta fondi per il secondo lotto di interventi del teatro ammonta a 128.500 euro. I fondi raccolti finanzieranno il restauro delle decorazioni ottocentesche portate alla luce nel ridotto nel foyer, dei palchetti, delle porte e del separio storico, i nuovi corpi illuminanti e le nuove sedute per la platea. I lavori comporteranno un investimento complessivo di 3.460.000 euro e consentiranno di restituire alla collettività il teatro. Proseguono inoltre anche le visite guidate al cantiere del teatro lo scorso fine settimana in occasione della festa di Lecco. Gli accessi alla struttura sono stati 190. Salgono così a 800 le visite totali.